A distanza di una settimana dalla giornata mondiale contro l'apsoriasi, una sua considerazione, dottoressa Parente? Il 29 ottobre si celebra la giornata mondiale dell'apsoriasi. L'apsoriasi è una patologia infiammatoria che coinvolge la cute e che attualmente affligge un milione e mezzo di persone nel nostro paese. Alla base di questa patologia ci sono sia cause genetiche ma soprattutto cause ambientali come l'inquinamento e il fumo di sigaretta che possono agire come fattori scatenanti. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha effettuato numerosi passi avanti, soprattutto nello sviluppo di nuovi farmaci biologici che possono aiutare le persone affette dalle forme più severe di questa patologia. Lo scopo della giornata mondiale dell'apsoriasi è quello di divulgare informazioni scientifiche affinché i soggetti affetti da questa patologia possano essere aiutati a non sottovalutarla e soprattutto a rivolgersi a centri specialistici per trattare l'apsoriasi nel miglior modo possibile.